ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi come ogni martedì esce un video delle make up angels quindi un video che riguarda a me fabiana elisabetta sapete tutti che ogni martedì esce un video e io vi chiedo scusa e chiedo scusa anche alle altre make up angels quindi a elisabetta e fabiana perché loro avevano già registrato questo video ma purtroppo io non sono riuscita per problemi familiari non sono riuscita a fare il video non me la sentivo non era un bel periodo e quindi è quello che è successo io vi chiedo scusa ma ovviamente la vita non viene programmata e ci sono questi intoppi tra virgolette ma adesso va tutto bene ci siamo tutti ripresi fortunatamente chissà ovviamente io ringrazio tantissimo le mie make up angels e anche laura del canale la cucina del cuore perché mi sono state vicino in un periodo un po quindi se non mi vedete euforica come lo sono sempre capitemi che non sempre diciamo si può essere divertenti e solare ci sono dei periodi un pochettino più particolari però come dice laura dobbiamo avere sempre il sorriso e dobbiamo sempre riprendere il nostro ritmo e risollevarci e quindi fabiana quella disgraziata ha deciso di farvi vedere dei prodotti particolari infatti come titolo sarà angel angels baciate dal sole quindi dovremmo far vedere le terre e il bronzer che abbiamo io gli ho detto no fabiana ma io non ho niente ma assolutamente io ho pochissime cose se no due tre in croce si proprio poche 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 ho sistemato un po la postazione le ho messe proprio qui per utilizzarle più velocemente perché ho messo sia blush che gli illuminanti e le terre quindi per averle a portata di mano e per far sì che e vengono utilizzate di più e ne ho qualcosina ne ho quelchesina allora vedete che nei miei video io le utilizzo poco perché non li so utilizzare e spero un giorno ormai ci sto perdendo anche le speranze di fare la scuola di makeup e di avere la possibilità di saper utilizzare determinate cose sul viso quindi bronzer e tutto mi scuso per quanto riguarda la mia acconciatura ma i capelli fanno altrimenti e quindi ho deciso di mettere questa fascia perché dopo farò una maschera e quindi l'ho già messa già andiamo come si dice anticipiamo il tutto allora vi faccio vedere dei prodotti che ho utilizzato all'inizio per quanto riguarda quando ho iniziato a capire su per giù la terra e il bronzer quindi la terra per scolpire il bronzer per fare l'effetto bronzante e vi faccio vedere due prodotti che credo che siano i primi sì credo che siano i primi che ho acquistato e queste l'ho viste perché l'hanno nominato in qualche video se non sbaglio clio makeup e ha nominato questa qui della iva rocher questo è un duo dove trovate sia la terra che il bronzer e questo è è un bronzer è in shimmer powder 2 non mi ricordo è la 01 o l'elligia non lo so ed è questa quindi trovate un una terra e un bronzer allora per quanto riguarda il bronzer l'ho già utilizzato sono mi sbaglio in estate l'avevo messo ma per quanto riguarda la terra l'ho soltanto swatchata perché sul mio viso non la vedevo bene invece poi ho notato che la dovevo sfumare la dovevo sfumare e quindi non l'ho poi utilizzata perché ho comprato altre cose quindi ho provato le altre però sicuramente la proverò e vi farò sapere però per quanto riguarda il bronzer è bellissimo l'ho anche utilizzato sugli occhi ed è fantastico veramente fantastico non vi swatcho niente perché non ho la forza anche mentale di sbocciarvi le cose quindi capitemi e veramente vi chiedo enormemente scusa se vedete questo video un pochettino più poi andiamo avanti questo è quello famosissimo che hanno tutte le youtuber ma proprio tutto 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 tutte e questo è stato il secondo che ho preso perché questo è il preferito in assoluto di cherry pandemonium quindi siccome io carlotta la seguo da tantissimo e ho deciso di acquistarlo anch'io e vi sto parlando di questo qui della nyx che è il top lei ama tantissimo questo che di norma sarebbe un ombretto se non mi sbaglio no è un blush questo blush per chi non l'ho capito ma comunque loro reputano blush ma ovviamente è una terra e mi piace tantissimo perché fredda e io l'ho utilizzata poi vuoi che ero più magra quindi avevo un po più i zigomi più scavati e tutto ma mi è piaciuta tantissimo utilizzarle quindi è molto molto bella però ovviamente la devo riutilizzare con i pennelli adatti e tutto perché ultimamente mi sto concentrando su altri tipi di bronzer però questo mi piace tantissimo infatti assomiglia assomiglia a uno di fenty che dopo vi farò vedere poi vi faccio vedere quelli che diciamo mi piacciono di più in assoluto uno di questi io lo adoro infatti me lo vedete sempre in qualche video perché l'ho già l'ho utilizzato altre volte uno è quello di fenty beauty ed è una terra e si chiama aspettate ve lo faccio vedere sì capello cade tranquillamente se uno dei tanti e questo è shady bees e come vedete è un pochettino caldo per quanto mi riguarda però in base alla mia tonalità in base alla mia tonalità di pelle questo è il colore diciamo che si avvicina tantissimo infatti facendo uno scouting un contouring un po' particolare perché anche se io spesso non mi trucco però poi mi siedo qua faccio le prove perché sapete tutti che questa questa stanza per me è un mio reparto rilassante c'è chi va a farsi i massaggi c'è chi va a farsi leggere fuori porta ma io entro in questa stanza e mi sfogo e quindi ho già provato questo e mi piace devo dire che mi piace ma quello che io preferisco di più in assoluto infatti avete visto altri video dove lo utilizzo è quello di too faced a me piace tantissimo io lo adoro è la mia chicca e questo è chocolate soleil mi piace tantissimo l'avete già visto utilizzare altre volte come vedete la differenza tra questo e quello di fenty se non mi cade però e quello di fenty è che fenty è leggermente più caldo a confronto di questo qui il chocolate soleil di too faced è leggermente più caldo infatti io preferisco il too faced invece di questo però devo dire che anche questo non è male specialmente con bronzatura sempre per quanto riguarda fenty beauty vi faccio vedere questi due uno è nel formato piccolo perché io adoro sapete tutte le mini taglie e quindi è un bronzer e poi invece il la terra è nel formato grande vi faccio vedere quello nel formato piccolo che è cinnamon ed è questo questo qui questo bronzo lo faccio vedere nella mano ed è questo qui ed è un effetto che mi piace io l'ho utilizzato sempre per quanto riguarda la casa perché non sono uscita per mettere questo e devo dire che mi piaciucchia non è un prodotto che mi viene spesso da utilizzare però devo dire che mi piace è un colore che mi piace e devo assolutamente provarlo sugli occhi voglio vedere come sugli occhi invece questo nel formato grande e amber ed è il colore che a me piace tantissimo perché è è freddo e adoro perché lo prendete fate i due segnetti e poi lo sfumate si sfuma alla perfezione ed è molto pratico perché lo applicate sfumate e andate via ed è un colore abbastanza freddo infatti su di me sta una meraviglia io lo adoro in assoluto a me piace tantissimo poi un altro che vi faccio vedere è io volevo prendere la la palettina la palettina che fabbiano dice che si chiama paletta la paletta quella grande la paletta perché questa è la palettina quella è la paletta la paletta quella grande di kat von d che vi piute eccetera eccetera di kat von d ma gli altri colori sinceramente non non erano dei miei cioè credo io che non mi siano tanto bene quindi ho deciso di prendere la parte più piccola quindi il duo dove c'è la cipria e il la terra ovviamente io ho preso sombra ho preso la parte light del contouring perché ovviamente essendo abbastanza chiara come vedete sempre sulle tonalità della tu fased però un pochettino più fredda vedete questa è più fredda cioè io super giù adoro queste tonalità ed è molto molto bella anche questa l'ho già utilizzata e mi sono trovata benissimo e quindi questa ve la consiglio perché qui trovate anche la cipria quindi se dovete portarle in giro questa è buona perché ha tutte e due le cose e poi ha un enorme specchio una cosa fantastica cioè guardate specchio sporco però è bellissimo poi il packaging è fantastico tutto bello e devo dire che un'ottima spesa perché è piccolina e ha diciamo l'essenziale cipria e terra poi una delle ultime che ho acquistato perché poi vi faccio vedere la mia chicca ve la faccio vedere la fine per quanto riguarda sempre le cialde singole vi faccio vedere questa che è Harmony di MAC e questa qui giusto è Harmony di MAC e questa invece è quella di Jennifer Lopez per Inglot queste se vedete si assomigliano un bel po' sono tutte e due tonalità che io adoro sul mio viso ho utilizzato questo in vari video specialmente gli ultimi che ho fatto perché devo dire che prima di tutto lo dovevo provare per vedere com'era e tutto devo dire che mi sono trovata bene si sfuma benissimo e io l'ho utilizzato con il pennello di Fenty Beauty che è questo ed è il Baked Blend questo qui nella parte qui più sottile perché avendo non essendo brava ovviamente preferisco io farlo con un pennello piccolo per aiutarmi anche se ho visto Giulia, non mi ricordo il nome di questa ragazza che ha utilizzato i pennelli di Morphe in collaborazione con Jacqueline Hill questa ragazza le ha nominati e Stefania li ha acquistati e quindi quella ragazza utilizza un pennello abbastanza grande e dice che viene bene anche fare il contouring quindi abituata con questo piccolo voglio proprio essere precise e voglio vedere come viene con quel pennello che è abbastanza grande a proposito io mi sono iscritta al canale di questa ragazza Giulia vi scriverò anche il nome tramite Eleonora Manni perché l'ha nominata tantissimo su Instagram e quindi sono andata a seguirla e automaticamente grazie Eleonora Manni ho conosciuto quest'altra ragazza che fa video abbastanza piacevole per quanto riguarda il make up perché sapete tutti che io adoro il make up e quindi tramite lei ho scoperto anche questi pennelli quindi ottimo quindi grazie Eleonora e grazie Giulia vi stavo dicendo quindi per quanto riguarda questi due mi piacciono, mi piacciono assolutamente Harmony di MAC e il contouring perfetto e se non mi sbaglio anche il preferito di Betty e anche questo qui di JLo per quanto riguarda Inglot mi piace tantissimo quindi questi ve li consiglio se non vi dico il nome giù nell'info box troverete tutto ovviamente un altro che devo dire no che non ci davo l'ho comprato per comprarlo, per provarlo, per testare il prodotto e tutto è la palettina questa qui di Denty per quanto riguarda Cosmify e devo dire che ovviamente io ho utilizzato questo colore qua questo e questo qua se non mi sbaglio questi due che si chiamano Monet questo qui e Shazam questo qui la palettina si chiama Bonjour Contour Shadow Show Trio non so se il nome è questo comunque questa palettina qua scusate lo specchio questa palettina qua e mi piace tantissimo proprio questo e questo qua come diciamo terra questa l'ho utilizzata di più e mi piace mi piace tantissimo e anche se diciamo il contouring mi è venuto una volta leggermente più alto questo mi ha diciamo fatto anche l'effetto di blush e devo dire che mi è piaciuto questa palettina non proprio sono sincera con voi non le avrei dato nemmeno ma invece è risultata buona quindi ottimo anche questo arriviamo quasi alla fine vi faccio vedere questa che è la Chic Tone e questa l'ho presa tramite una ragazza l'ho presa perché ero molto curiosa di provare la Hula ma anche gli altri prodotti perché non li avevo l'ho utilizzata poca sono sincera si è pure staccata sono oltremmo tantissimo sincera allora io l'ho acquistata perché ero molto curiosa di utilizzare la Hula che sarebbe questa qua ma poi mi sono innamorata di questo e questo l'ho utilizzato che sarebbe Dallas l'ho utilizzato tantissimo due anni fa perché questo ha più di due anni quando sono stata al mare per una settimana quando sono ritornata non mettevo niente sul viso perché avevo un incarnato abbastanza diciamo decente non dico bronzata però giù di lì ogni tanto uno sguardo non guardate anche le sopraccine allora la mia estetista ha detto di non toccarli quindi se vedete un monociglio è Stefania che esce fuori credeteci mi ha detto di non toccarli quindi io non li tocco perché la mascherina è qua e non è qua perché comunque l'ho utilizzato tantissimo e mi è piaciuto tanto ma veramente tanto cioè mi faceva un effetto sul viso pazzesco specialmente quando tornavo dal mare e mi facevo la doccia e tutto e quindi dovevamo uscire a mangiare la pizza a mangiare un gelato e tutto e mettevo questa su tutto il viso perché lo mettevo su tutto il viso mi dava quell'effetto di luce che era stupendo specialmente quando arrivava la luce diretta era un amore e mi piaceva poi mettevo il mascara non mettevo niente tipo sugli occhi e tutto perché giustamente il tempo di lavarti già sei fuori e devo dire che mi è piaciuta tanto e quindi questa è Dallas invece per quanto riguarda la Hula io la vedo un bel po' scura per quanto mi riguarda poi per finire e finiamo in bellezza aspettate che metto la copertina devo mettere la copertina per quanto riguarda la chiusura in bellezza perché questa è la palettina che mi è piaciuta tantissimo e adoro in assoluto è la The Mesh Box la Kali The Kali Contour della Smash Box come vi ho detto e oltre che ha un bellissimo specchione ha questi stupendi ma dico stupendi ma che dico stupendi ma stupendissimi stupenderrimi prodotti mi piace tantissimo mi piace dal primo fino ad arrivare all'ultimo che sarebbe un blush ma che io utilizzo lo utilizzo come blush però che diciamo un mix con la terra è fantastico ed è veramente da paura questi per quanto riguarda il bronzer anche se questo lo vedete chiaro messo sul mio viso è leggermente più scuro quindi non lo posso utilizzare come illuminante perché sarebbe molto scuro per quanto riguarda la mia gran ragione di adesso per quanto riguarda la bronzatura so che non la prenderò perché io non ci vado nemmeno pagata oro automaticamente lo utilizzerò come contouring se mi bronzerò nel balcone e niente questa tipo è una cipria abbastanza gialla ma la particolarità sono queste sia questa che questa e sono delle bellissime terre si ne ho prese troppe le ho prese troppe e sono delle bellissime terre veramente molto molto belle a me piace tantissimo mi piace proprio questo questi bronzer cioè questa palettina è al bacio perché è la mia preferita in assoluto di tutte quelle che avete visto questa però questa è come palettina è la migliore se dovete prendere qualcosa tipo c'è il desingolo cosa prendo cosa non prendo che tonalità è giusta per il mio viso e quale no questa ve la consiglio in tutto e per tutto questa palettina è fantastica spolvero un pochettino ma che vi devo dire è un acquisto che rifarei 300.000 volte perché è la migliore in assoluto per me è la migliore quindi per quanto riguarda il video dei bronzer ho finito e meno male che gli ho detto che gli dovevo far vedere solo tipo 5 prodotti invece qui nello schermo vedo 20 20 minuti mi chiedo scusa perché sto sclerando niente per quanto riguarda questi prodotti è tutto sono i miei preferiti ovviamente quindi ve li dovevo far vedere allora ovviamente aspetto i vostri commenti giù nei commenti scrivetemi quello che volete se vi piacciono non vi piacciono quali sono i vostri preferiti anzi fatemi una classifica di tre dei vostri preferiti appena sarò molto più euforica farò il video dei del decluttering perché devo togliere alcune cose perché sennò io qua dentro non c'entro più quindi questa stanza sarà piccola per me e non ho altri posti dove andare e quindi devo riformulare diciamo la mia stanza quindi devo capire cosa tenere e cosa non tenere quindi farò dei concorsi dei quiz quindi state attenti a quello che dico e alle cavolate che ripeto e niente che dirvi io ringrazio tantissimo le mie makeup angels quindi ringrazio tantissimo Fabiana e Elisabetta per avere pazienza nei miei confronti e per aver programmato il video nella settimana diciamo per oggi io sto sclerando già è l'orario di chiudere tutto spero che nei prossimi video mi vedrete più diciamo più più la Stefania di sempre e niente che dirvi ragazzi io spero che il mio video vi sia piaciuto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti